Salve a tutti e benvenuti alla prima lezione del tutorial di Epanet. Oggi andremo a vedere come è possibile creare un nuovo progetto, impostare le unità di misura, le equazioni delle perdite di carico e anche altre impostazioni utili per la modellazione di tipo idraulico. Come prima operazione andiamo a salvare il nuovo progetto. Per fare questo andiamo su file, salva come e il file lo chiamiamo lezione 1 e andiamo su salva. Come possiamo osservare il file è stato correttamente salvato in quanto compare la scritta lezione1.net. A questo punto possiamo osservare che sono presenti un insieme di finestre. Ad esempio in edit abbiamo la funzione coppia o queste tre funzioni che sono selezione oggetto, seleziona vertice e seleziona regione che corrispondono al primo, al secondo e al terzo simbolo. Successivamente possiamo andare invece su view, su dimensioni, possiamo impostare le dimensioni del quadrante. Questo è molto utile quando il progetto è in scala. Delle volte il progetto può essere anche non in scala ma semplicemente andiamo ad impostare le dimensioni corrette tra i vari elementi semplicemente impostandole attraverso le impostazioni dell'elemento stesso. Andiamo su chiudi. Dopodiché abbiamo un insieme di strumenti quali il PAM, lo zoom in avanti o lo zoom indietro che corrispondono appunto al primo, al secondo e al terzo e poi dopo seleziona la piena estensione che corrisponde al quarto. Adesso andiamo semplicemente su opzioni. Dalla schermata di opzioni possiamo definire ad esempio le dimensioni dei nodi, le dimensioni dei collegamenti e renderli anche proporzionali al flusso che viene registrato in quel determinato collegamento. Le dimensioni delle etichette, le notazioni, simboli eccetera. Inoltre possiamo anche impostare il colore del nostro schermo ad esempio nero, grigio eccetera. Noi lo lasciamo bianco e andiamo su ok. A questo punto andiamo su progetto e andiamo su Analysis Options. Da questa schermata è possibile impostare tutte le unità di misura del nostro progetto. Ad esempio l'unità del flusso può essere espressa in diverse unità di misura possibili secondo Epanet, facendo però la distinzione tra alcune unità di misura che corrispondono al sistema internazionale e alcune che invece corrispondono a un sistema prettamente americano. Quando noi andiamo ad impostare le seguenti unità di misura che sono litri al secondo, LPS, litri al minuto, dopodiché abbiamo MLD che corrisponde a megalitri al giorno. Infine abbiamo anche metri cubi all'ora e metri cubi al giorno. Quando andiamo a impostare queste cinque unità di misura, Epanet prende in ingresso semplicemente le unità del sistema internazionale, quindi misura le distanze in metri e ad esempio anche le altezze del pelo libero all'interno del serbatoio in metri. Mentre quando impostiamo queste prime cinque unità di misura, il sistema di riferimento è quello Anglo-Sasson. Noi per il nostro progetto andiamo a impostare litri al secondo. Inoltre le perdite di carico possono essere determinate attraverso tre relazioni fondamentali che corrispondono ad esempio alla prima che rappresenta la formula di Hasen-Williams, la seconda che è quella di Darcy Weisbach e la terza che è quella di Chesie Manning. Nel nostro caso utilizziamo quella di Darcy Weisbach. Lasciamo queste impostazioni così come sono. Inoltre questa voce invece rappresenta il massimo numero di prove che possono essere utilizzate per la risoluzione delle equazioni non lineari che governano appunto questo fenomeno. Lasciamo il valore di default. Mentre la curatezza rappresenta fondamentalmente quella che è la tolleranza all'interno della quale le nostre equazioni devono rientrare al fine di raggiungere la convergenza del processo. Con questa voce stiamo andando a dire fondamentalmente che se non si trova una soluzione della modellazione idraulica all'interno del massimo numero di prove che abbiamo definito come 40 possiamo impostare come continua e il processo viene ripetuto per altre 10 iterazioni oppure semplicemente andare su stop terminare l'elaborazione. Noi lasciamo continua. Possiamo inoltre lasciare anche tutte le altre impostazioni così come segue. Ad esempio questa impostazione permette di moltiplicare l'ingresso della domanda. Se lasciamo 1 la domanda rimane inalterata. Se mettiamo 2 la domanda viene raddoppiata. Se mettiamo 0,5 la domanda è pari al 50%. Inoltre possiamo andare ad impostare anche tutti gli altri parametri quali qualità per fare tutte le analisi di tipo qualitativo della risorsa idrica oppure quelle di livello energetico eccetera. Tutte altre impostazioni che vedremo nelle lezioni successive. A questo punto chiudiamo e andiamo su salva. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale nella quale pubblicherò altri nuovi contenuti riguardanti al tutorial di Epanet, a mettere un mi piace o a commentare. Arrivederci buona serata.